grande grande non la fare spegnere numero vai via 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 grande 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 è un applauso grande 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 3 2 1 start piano piano guarda la guarda la guarda la guarda la grande grande il giullare il giullare stavolta ne vai a spostare quell'albero per favore sposta l'albero che rovvi queglia ci sei? ci sei? 3 2 1 start guarda sta guardando il film sta guardando il film stava guardando la puntata Già che stai, fai anche la prova di lentezza che è partita Fai un passo indietro Il più lento possibile Senza mettere il piede per terra Se vuoi ti tengo anch'io, se mi dai 20 euro ogni volta che dico Al 3, 2, 1, via, parti Tutto a posto? Stavo dicendo adesso, me ne manca ancora uno Tenga Martino Chi sei? A casa per Martino 3, 2, 1, via Che esibizionista, guarda che esibizionista Guardalo, guardalo Guardalo Vai, vai, vai Che controllo, che controllo Grande Grande Grande, grande 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 Vaglio 3, 2, 1, via scusi ma per amore doveva andare che fu un ambolo che fu un ambolo che fu un ambolo 3 2 1 via guarda guarda la classe è l'epoca la moto d'epoca guarda 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 è Kawasaki questa? questa Kawasaki che è... Lava Saki questa Lava Saki aspetta aspetta bello 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 troppo schiaccialo 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 bravo bravo guardalo guardalo grande grande notare la tecnica 3 2 1 via grande 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 notare che la moto non è neanche sua? la moto non è neanche sua? grande 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 guardalo 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 come porta termina la gara pochi centimetri grande 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 complimenti non so che fai manovra il posto puolui che ci dà i soldi che tracci le moto lei ha 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 3 2 1 start guarda 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 che fenomeno guarda guarda che fenomeno guarda che controllo guarda guarda che controllo guarda 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 che controllo Frustalo sulla pancia, frustalo sulla pancia 3, 2, 1, via! Ma che bella questa mozza, Salvatore è tua! Allora, terzo miglior classificato, è stato Salvatore con un tempo di 24,85. Poi, il secondo classificato è stato Cresi. Dov'è? Andrea, eccolo! 63,63. Mentre il migliore è stato un certo Roberto. Chi è Roberto? C'è il timbro del giudice cronometrista pure. Grande, grande, grande! Beh, complimenti ragazzi, complimenti! Complimenti a tutti per l'impegno! Complimenti a tutti per l'impegno! Grazie!